Batteria scoppio. Samsung perde oltre 6 miliardi di dollari nella valorizzazione in borsa perché le consegne del nuovissimo apparecchio Galaxy Note 7 sono state ritardate per controlli di qualità. Secondo informazioni non confermate dalla casa madre, la batteria potrebbe esplodere al momento della ricarica. I Galaxy Note 7 sono stati commercializzati il 19 agosto negli USA e in Corea, mentre venerdì avrebbero dovuto cominciare le vendite in Europa. Un nuovo grosso problema per il colosso coreano anche perché il 7 di settembre la sua concorrente Apple lancerà il nuovo iPhone 7.